Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video spacchettamento haul collaborazione vestiti Fabric Sounds, chiamiamolo come volete voi. In questo video vi mostrerò ciò che ho ricevuto per la mia seconda collaborazione con Shein, la prima vi è piaciuta molto quindi anche questa volta vi farò vedere tutti i capi indossati in modo tale che possiate avere una visione migliore del capo. E come al solito non mi dilungo ma se volete sostenermi e sostenere il canale cliccate giù nei link relativi a ogni capo e vi ricordo che qualora decideste di acquistare su questo sito avete il mio codice sconto del 15%, credo su una spesa minima però di 59 dollari. Ci sono tutte le informazioni giù, ma passiamo nel vivo dell'haul, il pacco. L'altra volta non ve l'ho fatto vedere, stavolta ve lo mostro. Vi arriverà questo pacco molto simpatico. Il mio è bello panciuto perché ho scelto cose voluminose, ma vediamo subito. Ho voluto prendere altri due maglioni perché ce n'erano tanti di bellissimi e io sono appassionata di maglioni caldi invernali, anche se credo che ormai smetterò di acquistare maglioni invernali perché la primavera è vicina, speriamo. Il primo è un maglione davvero molto sbarazzino. Allora, anzitutto, vi faccio vedere da vicino il materiale. È un maglione color panna in ciniglia, quindi morbidissimo. È un maglione crop. Ecco, ve lo devo fare vedere in questo modo, ma tanto poi capirete tutto quando lo vedrete indossato. È un maglione crop, quindi arriva più o meno all'ombelico e ha tutti i bordi, sia del collo che delle maniche, che della parte inferiore, così sfilacciati, con un effetto un po' destroyed. Ha le maniche abbastanza larghe, come vedete, che terminano poi con un pozzino stretto. E la particolarità è che hanno tutti questi puntini di lana colorati, che lo rendono veramente simpatico. È caldissimo. E chiaramente io non lo indosso senza nulla sotto, con pancia all'aria, ma preferisco metterci una canottiera, un po' di una t-shirt. E' veramente bellino, con un paio di jeans a vita alta, sta benissimo. Probabilmente ve l'ho fatto vedere indossato proprio con di jeans a vita alta, spero. E mi piace tanto, 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 tanto. L'avevo visto un po' in giro da qualche altra youtuber, credo, e quando l'ho visto nella gallery di Shein ho voluto prenderlo. Costo veramente ridotto, come tutti i capi di Shein. Quindi questo qui è il primo maglione molto fluffy, molto comfy, molto tenero, devo dire. E finalmente potrò indossarlo, perché questi capi mi sono arrivati da circa due settimane, ma per non metterli in giro nell'armadio, sono ancora lì che aspettano di essere sfoggiati. Vedete la sfilaggiatura? E' fatto così, tipo proprio rovinato, ma è un effetto voluto naturalmente. Molto carino, molto soddisfatta di questo capo. Passiamo al secondo maglione. Un po' di crinkling. Anche il secondo maglione è un maglione crop. Allora, che dire di questo maglione? Anzitutto il colore è molto particolare. Io mi aspettavo un classico color camel o biscotto. Invece è un marroncino con una punta di rosa. E risulta veramente un colore molto originale e particolare. Voi lo vedete più marroncino, ma è più un nude, marroncino, rosato, carico. Allora, come vedete, la particolarità è che è crop, ma ha un taglio inferiore a zigzag, quindi insolito. Ha il collo alto, è molto molto caldo e ha una lavorazione a trecce di varie dimensioni. La manica è regolare, assolutamente. Inutile dirvi che stiamo parlando di acrilico. 100% acrilico, purtroppo i materiali sono quelli che sono, ma d'altronde per cambiare spesso per questo prezzo non ci si può aspettare chissà cosa. Molto carino, anche questo lo vedo adattissimo con dei pantaloni a vita alta, magari un pantalone palazzo, che ne dite. Anche questo caldissimo, super confortevole, tutto quello che si può volere da un maglione invernale. E poi credo che sia un colore che, nonostante il mio biancore cadaverico di oggi, si sposa bene con i miei capelli. Quindi, questo è. Di questo paglione ci sono diverse colorazioni. Vi invito a guardare anche le altre, se non è esattamente un colore nelle vostre corde. Siamo giunti al terzo ed ultimo capo, che è sicuramente qualcosa di più glamour, più femminile. Vi ho detto della mia volontà di arricchire il mio armadio con qualche vestitino. E così ho fatto. Questo è un capo che io sono certa di aver visto da Zara in collezione, ma l'ho ritrovato su Shein e me lo sono acciuffato. Chiedo perdono, non è stirato, scusatemi. Allora, questo è un camicione verde militare che va giù lungo, 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 fino a sopra il ginocchio. Quindi voi lo potete utilizzare come camicia, con i jeans, con dei pantaloni, come abitino a primavera, anche senza calze. Con delle calze coprenti d'inverno e un cardigan, con dei leggings, con una bella cintura in vita. Insomma, ne potete fare veramente quello che volete. E sulle taschine sul petto ha questi bellissimi dettagli. Ovvero, vedete, una decorazione in paillette, in pietruzze, molto piccole e molto luminose sul grigio. Le maniche sono a tre quarti. Questo è veramente un bel cotone. Vi dico subito la composizione. Qui abbiamo il 65% di poliestere, il 30% di cotone e il 5% di spandex. Quindi, ok, non è del tutto cotone, però vi assicuro che la bella percentuale di cotone presente si sente. È molto morbido al tatto, molto fresco anche. E quindi io l'ho immaginato. L'ho immaginato con degli stivali da cavallerizza. Così, a mo' di abitino. È tutto abbottonato e lo trovo delizioso. Bene ragazzi, anche per questo video collaborazione ho terminato. Vi ricordo che non sono pagata per esprimere la mia opinione, quindi qualora mi dovesse arrivare un capo che non mi gusta da Shein, lo dirò senza troppe remore, assolutamente. Però, devo dire che finora questa azienda mi ha soddisfatta parecchio, quindi perché non dirlo? Spero accettiate di buon grado questi video ogni tanto sul mio canale, perché a me fa veramente piacere collaborare con certe aziende. Penso sia un ritorno anche giusto per chi come me, come tante, come tanti, impiegano tante forze, energie e tempo nel canale. Nulla, grazie, fatemi sapere qual è stato tra questi il vostro capo preferito e qualunque domanda, qualunque dubbio, qualunque incertezza su questo sito, chiedete pure nei limiti delle mie possibilità e conoscenze e vi risponderò sempre molto volentieri. Grazie ragazzi, a molto presto, ci vediamo presto, vi aspetto. Ciao a tutti, ciao. Ciao ragazzi.